Il forum internazionale della dieta mediterranea, un momento molto importante di confronto e analisi. Siamo alla vigilia del compleanno, oggi è il 15, domani è il 16, che era la nascita della certificazione di dieta mediterranea, bene materiale dell'umanità da parte dell'UNESCO, il nostro vuole essere un appuntamento per verificare il grado di penetrazione di questo messaggio importantissimo a livello mondiale, capire la ricaduta sul territorio per le nostre imprese di questo valore e soprattutto lanciare il paesaggio olivicolo come ulteriore elemento di valorizzazione del nostro territorio. Quindi, grande appuntamento, 14 paesi, istituzioni al massimo livello, credo che sia una cosa estremamente interessante. Tutto questo vuol dire benessere, con la corretta alimentazione e stile di vita, ma anche sviluppo e occupazione. Direi che questo è l'obiettivo finale, noi vorremmo che grazie alla celebrazione della dieta mediterranea diventi veicolo per penetrare nel mondo quei mercati che ancora non sono stati conquistati dall'alimentazione mediterranea appunto, grazie anche all'olio extravergine che poi è la tipicità del nostro territorio. Come diceva giustamente, un carattere internazionale, paesi presenti con tutte le nazioni che si affacciano sul mare nostro. Eh sì, sono 14 paesi. La nostra intenzione, grazie a Recomed, la rete di città dell'olio del Mediterraneo, che si riunisce domani nel Consiglio dell'amministrazione, creare una forte lobby a livello di comunità economica europea proprio per portare avanti i nostri valori e le strategie economiche. Dottor Marchion, è un momento importante per Imperia, che vede riuniti qui tantissimi paesi che si affacciano sul mare nostro per parlare di dieta mediterranea e olio, che ha da sempre caratterizzato la città dell'Imperia. Sì, devo dire che è un'occasione importante. Speriamo che si vada avanti su un progetto che ho visto già cominciato l'anno scorso, proprio di questi tempi, mi pare a maggio e a novembre, giusto? Speriamo che si vada avanti su questa via di valorizzare l'olio come uno degli elementi, forse l'elemento più importante della dieta mediterranea. Dieta mediterranea che ormai si sa che è stata considerata patrimonio immateriale, patrimonio culturale immateriale dell'umanità e l'olio è al centro. Ora, questa terra in particolare, ne parlavamo poco fa, può rivendicare molto sull'olio, sia come storia, sia anche ora come produzione. Noi speriamo che ci sia anche un ritorno a un periodo in cui Imperia, dal punto di vista della produzione e del commercio, era molto più avanti. Comunque la qualità dell'olio di queste parti è una qualità eccelsa, ho avuto modo di assaggiarlo anch'io. e questo è sicuramente il posto migliore per fare un convegno come questo. Va dato atto a Enrico Lupi di aver avuto quest'idea e di portarla avanti con tenacia. Presidente, prende il via queste tre giorni del forum della dieta mediterranea all'interno di Olio Oliva, un momento ormai importante per tutto il nostro territorio. Sì, riprendiamo un discorso finito a novembre dell'anno scorso, iniziato a maggio del 2011, che prosegue con un'attività intensa che ormai vede Imperia proiettata su questo discorso importante della dieta mediterranea e della tutela del paesaggio olivicolo. Dall'83 è iniziato questo percorso, sono tanti anni, ma questo percorso si sta consolidando anche se è un momento di crisi e vede quindi la nostra Camera di Commercio, la nostra città d'Imperia, il nostro territorio, protagonista in una difesa e in una promozione sempre più intensa di questo discorso che è legato ai nostri prodotti del Mediterraneo con l'olio d'oliva che è il principe dei prodotti della dieta mediterranea, ma che comuna poi il discorso della pasta, dell'alimentazione, del pesce, dei prodotti così importanti che radunano oggi 14 paesi del Mediterraneo proprio a parlare di questo discorso. Stanno, proponiamo due argomenti molto importanti, uno la difesa del nostro territorio, del paesaggio olivicolo che viene proposto come anche questo a tutela, deve essere tutelato dall'UNESCO, quindi come patrimonio materiale dell'UNESCO e dall'altra parte il discorso che è più commerciale, ma è molto importante della label, cioè di una etichetta dei prodotti che si possono in questo caso marchiare con la dieta mediterranea. Sono importanti discorsi perché uno unisce insieme il prodotto e la produzione olivicola con il discorso anche del turismo e dell'ambiente, tutela il patrimonio e dall'altra invece l'importante discorso della caratterizzazione del nostro Made in Italy, non solamente in questo caso non Made in Italy ma anche dei prodotti che vengono garantiti come rientranti nella dieta mediterranea. Tra i vari paesi presenti qui al forum anche la Spagna, per portare l'esperienza del vostro paese? Sì, chiaro. Per prima cosa vorrei ringraziare l'organizzazione che ci ha ospitato di nuovo qui, infatti è il secondo anno che siamo presenti e abbiamo appunto voglia di continuare a lavorare per dare continuazione a quella che è l'importanza della dieta mediterranea. Quali possono essere le unioni tra Italia e Spagna? Sicuramente dobbiamo lavorare insieme per quello che è il valore dell'olio e quindi della dieta mediterranea, anche se l'Italia insieme alla Spagna ha un ruolo diciamo più anche predominante per quello che è la tradizione dell'olio. E quali sono le differenze tra l'olio italiano e l'olio spagnolo? Già ci sono differenze tra l'olio prodotto all'interno di ogni paese, quindi all'interno della Spagna e all'interno dell'Italia, però io credo che dobbiamo produrre e quindi commercializzare il nostro olio indifferentemente da quello che è l'origine, il paese d'origine, ma proprio come elemento base delle nostre culture. Grazie a tutti.